La gara è stata comunque rinviata a data da destinarsi, non c'è ancora quindi ovviamente ne poteva esserci una data per questo recupero. Al momento dell'annuncio dello speaker ovviamente c'è stato grave disappunto da parte del pubblico che nonostante le avverse condizioni meteo si è presentato qui al Fattori per quello che doveva essere una festa come giustamente tu hai ricordato proprio all'inizio del collegamento. Era una giornata speciale per l'Aquila e peccato ovviamente che sia andata così. Sì davvero una giornata speciale. Io penso anche che Lucio Michele e Mario Facco arrivando all'Aquila città che ha purtroppo sofferto e ha pagato con tantissime vittime 308 il terremoto del 2009. Lo sport è stato importantissimo. L'Aquila è una città non solo di rugby dove il rugby ovviamente è lo sport quasi principale perché si vive di rugby all'Aquila e si gioca con la palla ovale ma anche il calcio è seguitissimo e ovviamente tutti gli sport si sono stretti intorno alla popolazione e li hanno aiutati davvero. Guarda qui Arianna qui la situazione oggi qui all'Aquila era la seguente insomma nevicava il centro storico completamente diciamo disabitato non c'era nessuno. Quando siamo arrivati poi allo stadio ci ha fatto davvero una grande impressione vedere tutte queste persone sotto una nevicata così forte e stringersi intorno alle due formazioni all'Aquila in particolare il grande calore della popolazione aquilana in una situazione che continua qui all'Aquila città ad essere molto molto difficile. Noi ricordiamo anche, dobbiamo ricordare purtroppo le scosse di terremoto che continuano, quelle di assestamento anche in questi giorni hanno continuato a dare davvero a mettere grande paura qui alla popolazione e noi dobbiamo ricordare che il centro storico ne parlavamo poco fa anche in albergo insomma è stato chiuso nuovamente per dei controlli. Mario. Sì veramente è una tragedia. Grazie.